Ecco qui siamo in mia indipendenza dal Piemonte, la cara signora Beccalossi dei fratellastri d'Italia, qui è una strada modello, oggi c'è le vie di Gaeta, qua si mangiano di elle, pizza e di tutti i vivi, ma al nord non sanno manco che cos'è la diella, sanno magari la pizza ma la diella è difficilissima e si fa solo nel nord del regno delle due sigili, è vero signorina? E sono la specialità d'Italia e le sanno fare solo le donne di Gaeta, guardate che c'è qua, nello spettacolo nello spettacolo, in via indipendenza dal Piemonte. Cap借i Qua vi sono chialle di tutti i vivi, maestri e maestre chef, cuochi, cuoche. ecco le pielle, questi disparoccoli di verdura, di pesci, di volpi, tutto coperto, massima igiene, è la fonte della città, della polizia, i tempi del Piemonte e della Lombardica erano sozzi e morire di pellagra e di febbre di foitei, invece qui è tutto pulito, tutto coperto, vedete? Ciao Andrea, l'hai fatto tu studiare, dimmi la verità, bravo, 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 poi ma che autore che si sta avendo, peccato che per internet non possono sentire l'autore di queste specialità, Antonio c'era una specialità per te, fagioli con il nostro vecchio ricordo, ma che torna, poi faccio l'asse di fagioli con il maialino, assaggito dai, ma che torna, ecco qui i ragazzi biancorossi del regno delle due Sicilie, la nostra bandiera biancorossa, come va, come va, qua vedo, sento un odore, qua li rievo, le ciambelle di non avere, le ciambelle di non avere, le scortano di Mariella, e questa è Gaeta, in mezzo al mare, che come molti credibili qua la sera, dicono che sia un'isola, e invece una penisola, un promontale in mezzo al mare bellissimo, questo era il carcere di Gaeta, anzi era quello della caserma Sant'Angelo, poi trasferito a Castello, a Angioino, dai sozzi piemontesi, Savoiardi, Cavoriani, nel 1862, era una scuola di persone ufficiali diventata poi carcere, carcere di Gaeta, e non era Penestrella il carcere terribile, ma questo qua, guardate che specialità qua, ciambelle di nonna Loreto, dove sta nonna Loreto, dove sta nonna Loreto, nonna Loreto, dove sta? Scusate, viene più tardi, dovrete venire, fai guardare, se non ci stava, salutatemi Loreto quando viene, eh, vengono i primi remi, ah no? Eh beh, è pure l'uomo, se non mi mangiare chi li dico, non mi mangiare, ma come? Sono tutti buoni, come fanno i primi remi, i secondi?